le avventure di pinocchio di carlo colloti letto da libri in pillole capitolo 15 gli assassini inseguono pinocchio e dopo averlo raggiunto lo impiccano a un ramo della quercia grande allora il burattino perdutosi d'animo fu proprio sul punto di gettarsi a terra e darsi per vinto quando nel girare gli occhi all'intorno vide fra mezzo al verde cupo degli alberi biancheggiare in lontananza una casina candida come la neve se io avessi tanto fiato da arrivare fino a quella casa forse sarei salvo disse dentro di sé e senza indugiare un minuto riprese a correre per il bosco a carriera distesa e gli assassini sempre dietro e dopo una corsa disperata di quasi due ore finalmente tutto trafelato arrivò alla porta di quella casina e bussò nessuno rispose tornò a bussare con maggior violenza perché sentiva avvicinarsi il rumore dei passi e il respiro grosso e affannoso dei suoi persecutori lo stesso silenzio avvedutosi che il bussare non giovava a nulla cominciò per disperazione a dare calci e zuccate nella porta allora si affacciò alla finestra una bella bambina coi capelli turchini e il viso bianco come un'immagine di cera gli occhi chiusi e le mani incrociate sul petto la quale senza muover punto le labbra disse con una vocina che pareva venisse dall'altro mondo in questa casa non c'è nessuno sono tutti morti aprimi almeno tu gridò pinocchio piangendo e raccomandandosi sono morta anch'io morta e allora che fai costi alla finestra aspetto la bara che venga a portarmi via appena detto così la bambina disparve e la finestra si richiuse senza far rumore o bella bambina dai capelli turchini gridava pinocchio aprimi per carità abbio passione di un povero ragazzo inseguito dagli assassini ma non pote finir la parola perché sentì afferrarsi per il collo e le solite due vociacce che gli brontolarono minacciosamente ora non ci scappi più il burattino vedendosi balenare la morte dinanzi agli occhi fu preso da un tremito così forte che nel tremare gli suonavano le giunture delle sue gambe di legno e i quattro zecchini che teneva nascosti sotto la lingua dunque gli domandarono gli assassini vuoi aprirla la bocca se no non rispondi lascia fare che questa volta te la faremo aprir noi e cavati fuori due coltellacci lunghi lunghi e affilati come rasoi zaff e zaff gli affibbiarono due colpi nel mezzo alle reni ma il burattino per sua fortuna era fatto d'un legno durissimo motivo per cui le lame spezzandosi andarono in mille schegge e gli assassini rimasero col manico dei coltelli in mano a guardarsi in faccia ho capito disse allora uno di loro bisogna impiccarlo impicchiamolo impicchiamolo ripete l'altro detto fatto gli legarono le mani dietro le spalle e passato gli un nodo scorsoio intorno alla gola lo attaccarono penzoloni al ramo di una grossa pianta detta la quercia grande poi si posero là seduti sull'erba aspettando che il burattino facesse l'ultimo sgambetto ma il burattino dopo tre ore aveva sempre gli occhi aperti la bocca chiusa e sgambettava più che mai annoiati finalmente di aspettare si voltarono a pinocchio e gli dissero sghignazzando addio a domani quando domani torneremo qui si spera che ci farai la garbatezza di farti trovare bello e morto con la bocca spalancata e se ne andarono intanto si era levato un vento impetuoso di tramontana che soffiando e mughiando con rabbia sbatacchiava in qua e in là il povero impiccato facendolo dondolare violentemente come il battaglio di una campana che suona a festa e quel dondolio gli cagionava acutissimi spasmi e il nodo scorsoio stringendosi sempre più alla gola gli toglieva il respiro a poco a poco gli occhi gli si appannarono e sebbene sentisse avvicinarsi la morte pure sperava sempre che da un momento all'altro sarebbe capitata qualche anima pietosa per dargli aiuto ma quando aspetta aspetta vide che non compariva nessuno proprio nessuno allora gli tornò in mente il suo povero babbo e valvettò quasi moribondo e non ebbe fiato per dire altro chiuse gli occhi aprì la bocca stirò le gambe e dato un grande scrollone rimase lì come intirizzito